La cosa più importante di quando si fa questo lavoro è cercare di accontentare la clientela e che cacchie soibidi di no, perfetto, oggi arriva uno e dice che gentilmente può mettere poco sale perché non mangio tanto salato finisce lo pranzo, gli dico tutto a posto, sì e che diciamo era un po' sciapo no, tre uno fa, mi raccomando che mi ci puoi aggiungere un po' di olio che il riso non lo voglio troppo secco gli aggiungi l'olio, finisce lo pranzo, tutto a posto, sì e diciamo che il riso era un po' troppo olioso ma l'utop, l'utop, arriva ora, dice scusa che vorrei la salsiccia di fegato però mi raccomando cioè non è che deve essere finta, signor, tu stai l'abruzzo qua, la roba, ti è un nome e un cognome di preoccupanza di quello che dà da sapere, finisce lo pranzo, faccio tutto a posto, eh sì, ma tutto bene cosa è successo? Eh diciamo che la salsiccia di fegato, sapevo un po' troppo di fegato di che da sapere? Di che cacchia da sapere? Ma voi mi facete ammattire? Di che deve sapere la salsiccia di fegato? Di che cacchia deve sapere? Di banana? Deve sapere di fegato? Che problemi avete? Che problemi avete? Allora, c'è un'unica garanzia alla lavorangelo pubblica, la pazzia! Eh sì, però sai, ci sono anche delle soddisfazioni quali sono passati vent'anni e ne avessi trovato mezzo! Annaggia!